e adesso passiamo all'area sorrentina precisamente a metà di sorrento dove una telecamera puntata sulla porta di una 91enne ha sventato la truffa per l'anziana da parte di un ventenne la signora era già stata truffata in passato per una cifra di 10 mila euro e per questo sua figlia aveva fatto installare un sistema di sicurezza che in questo caso l'ha aiutata molto è stato appunto fermato un ventenne dai carabinieri mentre proseguono le indagini vediamo tutte le news e i dettagli nel servizio di rossella giacquinto torna ad essere vittima di una truffa un'anziana donna di 91 anni di meta di sorrento dopo quell'episodio la figlia aveva fatto installare un impianto di videosorveglianza puntato sulla porta d'ingresso aveva fatto in modo che qualsiasi movimento sospetto generasse un alert sul suo smartphone e su quello del marito collegati da remoto alle telecamere ieri l'ennesima truffa ma un finale diverso poco prima delle 14 un imobus al citofono dell'anziana si presenta come un corriere dice di essere passato a recuperare il danaro a nome della figlia l'anziana purtroppo si lascia ingannare raccoglie circa 1000 euro li consegna a quel ragazzo pochi istanti prima una notifica era comparsa sul cellulare della figlia uno sconosciuto era sul pianerottolo è così che la donna e il marito raggiungono subito la casa dell'anziana e quando arrivano il ragazzo stava andando via dicendo che era stato a visitare la zia ma senza dare altre spiegazioni spinge la figlia colpisce il marito con una testata al volto fugge mentre la donna chiama il 112 a intervenire due carabinieri liberi dal servizio sono poco lontani sentono urlare e si ritrovano nel senso di marcia opposto ad un ragazzo che corre un uomo col volto regato dal sangue il ventenne un incensurato di marano viene arrestato con in tasca i mille euro appena sottratti con l'inganno l'arrestato dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali ovviamente io vi invito a restare aggiornati sul nostro portale www.nanotv.it e su tutte le nostre pagine social www.nanotv.info.it www.nanotv.it www.nanotv.it